Nonostante la crisi finanziaria, il Comune di Messina rischia di sperperare altri 326.000 euro. L'ingente somma potrebbe essere impiegata per pagare ancora un anno di affitto ai privati proprietari dell'attuale sede dell'Urbanistica di Via Industriale. Nonostante il 6 febbraio 2012 sia stato deciso il trasferimento degli uffici nella sede del real convitto Dante Alighieri di Viale della Libertà, la lenta burocrazia del Comune infatti non ha ancora consentito l'impegno delle somme necessarie all'adeguamento della nuova sede e dal conseguente trasloco. Si tratta di circa 100.000 euro da impiegarsi in quattro mesi di lavori ancora solo annunciati. Dunque considerando i ritardi che l'operazione di trasferimento sta già accumulando, quasi certamente il Comune dovrà pagare ancora un anno di affitto per mantenere i vecchi uffici, peraltro totalmente inadeguati. Nel febbraio 2011 con una telecamera nascosta avevamo ripreso anche le pratiche nel bagno dei disabili, ad un costo, dicevamo, di 326.000 euro per un anno, quasi 30.000 euro al mese. A fare i conti e a mettere in guardia sull'ennesimo spreco dietro l'angolo è stato il Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Messina, Mimmo Guerrera, che ha scritto un'interrogazione al Sindaco Giuseppe Buzanca e all'Assessore alle Politiche Finanziarie Orazio Miloro per chiedere quando saranno impegnate le somme per il trasferimento dell'urbanistica al Dante Alighieri e per quale motivo nessun tavolo tecnico è stato ancora convocato per affrontare la questione.